Musica Ben trovati tra poco l'appuntamento con l'informazione. Si reca in caserma per denunciare, ma viene denunciato, protagonista della vicenda, un quarantenne di Santa Caterina. I carabinieri di Sciacca hanno fermato sei persone indagate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti a Ribera e nelle zone vicine. Bullismo, stalking virtuale, i pericoli del web, la polizia incontra gli studenti del Rapisardi di Caltanissetta. A tra poco. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Si reca in caserma per denunciare, ma viene denunciato, protagonista della singolare vicenda, un quarantenne di Santa Caterina. Santa Caterina, si reca in caserma per sporgere una denuncia e viene denunciato, protagonista della vicenda, un quarantenne che ieri mattina, intorno alle 10, si è presentato ai carabinieri con un atteggiamento ritenuto sospetto. Nel corso di una perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un tagliacarte di 14 centimetri, a quanto pare modificato in una sorta di stiletto. L'oggetto è stato sequestrato. Contestualmente è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di coltello di genere vietato. I carabinieri di Sciac hanno fermato sei persone, indagate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti a Ribera e nelle zone vicine. Sequestrati due chilogrammi di hashish, 70 grammi di cocaina e beni mobili e immobili per un valore di 100 mila euro. I provvedimenti restrittivi riguardano Carlo Giardiello, Felice Puccio di Ribera, Alessio Carrozza e Enrico Quattrocchi di Palermo, ai domiciliari Giuseppina Caltagirone e Barbara Giallanza di Palermo. Voltiamo pagina, bullismo, stalking virtuale, i pericoli del web. La polizia incontra gli studenti del Rapisardi di Caltanisset. Bullismo virtuale, stalking virtuale, pericoli del web. Se ne parla all'Istituto Commerciale Rapisardi con la polizia in prima linea. Oggi il secondo incontro che facciamo in questo istituto non sarà l'ultimo. Oggi stiamo incontrando i ragazzi più grandi, quindi oltre a quello che ha detto lei parleremo pure di violenza di genere, parleremo di pornografia online, di pedopornografia e quindi approfondiremo pure questo tipo di tematiche molto importanti. Cito solo un dato, Howard Gardner che è uno studioso di neuroscienze infantili e nell'ultimo suo libro Generazione Up fa una giusta osservazione, cioè il fatto che i giovani oggi, siccome possono accedere facilmente in modo illimitato alla pornografia, rischiano di sviluppare un sentimento verso l'altro, verso l'altro sesso, in particolare questo problema si riscontra tra i maschi e verso le donne. C'è come se la donna fosse un oggetto, quindi non sviluppano le giuste emotività, le giuste affettività. La donna è qualcosa da sfruttare come la vedono nei film pornografici, ma là è una rappresentazione. Dobbiamo un attimino quindi spiegare ai ragazzi, a parte tutte le altre cose che abbiamo detto prima, la differenza tra quello che viene visto relativamente alla pornografia, quelli che sono i veri rapporti affettivi, emotivi, di rispetto reciproco, verso l'altro genere. Parlare dei pericoli del web a scuola diventa fondamentale? Allora, intanto dobbiamo dire che la scuola, come tutte le istituzioni scolastiche, per quanto riguarda l'utilizzo, diciamo, con il tabello del web, è intanto attrezzata con una serie, diciamo, di dispositivi che impediscono l'accesso ai siti, diciamo, ai quali i ragazzi appunto non debbono accedere. Però fondamentalmente, come le sa, il piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in particolare della nostra scuola, mira essenzialmente a fornire agli ragazzi quelle competenze di cittadinanza che partono dalla consapevolezza di sé, ma anche dalla consapevolezza di quelle che sono le regole. È fondamentale, così come diceva l'ispettore, che nella consapevolezza di sé passa per il rispetto di sé stessi, ma anche per il rispetto degli altri. La tentazione, o meglio, la tendenza in un contesto, diciamo, di globalizzazione e di mercificazione di quasi tutto, la tendenza è quella di cosificare e di mercificare l'altro. Quindi il nostro compito è quello sostanzialmente di sensibilizzare rispetto a questo e volevo soltanto aggiungere brevemente questa iniziativa, così come già diceva l'ispettore, già un secondo intervento, il quale noi abbiamo richiesto alla polizia di intervenire. Però è anche, diciamo, si colloca all'interno di un progetto più ampio che vede inseriti i ragazzi in un percorso specifico che è contro la violenza e in particolare contro la violenza di genere. Prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento lo faremo all'Istituto Geometri, sempre diretto dalla professoressa Giacuzzo, fra un paio di settimane. Là incontreremo ragazzi più piccoli di prima e seconda, mi dicevano, sono di terza e quindi là poi magari approfondiremo sempre queste tematiche in special modo sui pericoli di web, una navigazione sicura e tutto questo facendolo passare attraverso speriamo di trasmettere l'acquisizione di un'autoconsapevolezza. Giovedì mattina nella stanza del Presidente del Tribunale di Caltanissetta sarà firmato un protocollo di intesa per la tutela della maternità tra magistrati, avvocati e personale amministrativo operanti all'interno del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta. Ancora Caltanissetta prevenzione, c'è tanto da vedere, screening del Luigi nell'ambito della settimana mondiale contro il glaucoma in Piazza Garibaldi. C'è tanto da vedere in Piazza Garibaldi nell'ambito della settimana mondiale contro il glaucoma. L'iniziativa è dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caltanissetta. Sì, l'iniziativa oggi, come dicevo, è la giornata mondiale del glaucoma, quindi noi siamo sempre pronti e attenti a queste cose e quindi oggi dedichiamo questa giornata perché il glaucoma purtroppo è una malattia che se non va presa in tempo e non va diagnosticata nei giusti termini può portare alla cecità. Quindi il nostro invito oggi è quello che tutta la cittadinanza faccia questo screening gratuito che è una visita oculistica e che pensi sempre che la vista è un bene prezioso e che va salvaguardato. Quindi non dico ogni anno, ma almeno ogni sei mesi, ogni quattro mesi di fare una visita oculistica e anche quando non si hanno problemi, non si avverte nessun problema, però la prevenzione è importantissima. Quindi invito tutta la cittadinanza di venire oggi fino alle sei, ci sarà qui il nostro camper che darà questo servizio gratuito. Quanti controlli sono stati effettuati già fino ad ora? C'è qui un'unità mobile oftalmica. Ma già in mattinata un 50 controlli già sono stati fatti. Quindi speriamo che in giornata il numero salga e ci auguriamo questo. Perché il nostro obiettivo è proprio diffondere la filosofia che la prevenzione è importantissima. Cosa sta emergendo da questi controlli? Da questi controlli abbiamo visto delle patologie a livello del seguimento anteriore e del seguimento posteriore. A livello del seguimento anteriore abbiamo visto qualche caso di keratocono. Però a livello del seguimento posteriore, qualche maculopatia e delle patologie anche a livello del cristallino e delle catarate. Per gli esami che abbiamo fatto. 50 nuovi volontari alla Croce Rossa italiana di Caltanissetta all'insegna del motto impegno costante per gli altri. 50 nuovi volontari alla Croce Rossa, giovani desiderosi di impegnarsi nel volontariato. Giovani e adulti, perché abbiamo 30 giovani e 20 adulti che sono entrati in Croce Rossa ieri con un brillante corso di reclutamento. Hanno fatto esame con un istruttore di diritto internazionale umanitario, una distruttrice per i giovani e un istruttore di primo soccorso. Quindi è un esame molto completo che dà la possibilità a questi nuovi 50 concittadini di avvicinarsi al mondo del volontariato. E poi darà la possibilità a loro di poter continuare i percorsi formativi per poter essere sempre più efficaci sul territorio. Cosa faranno concretamente? Concretamente con il corso di reclutamento che hanno fatto possono fare esclusivamente attività di promozione a immagini e attività di assistenza sociale. Facendo i corsi che invece partiranno al più presto, secondo la nostra programmazione formativa, assieme alla delegata dell'area 1 Claudia Sollami, sicuramente riusciranno a essere più attivi nel territorio con attività di primo soccorso, qual è il corso per ambulanze, il corso per la defibrillazione semi-automatica, o nell'area 2 con la delegata Laura Rizzeri per le attività socioassistenziali con lo sportello. Un 51enne di San Cataldo è stato tratto in arresto dai carabinieri. Deve scontare 8 mesi per danneggiamento. I carabinieri della stazione di San Cataldo hanno arrestato Cataldo Faccianella, 51 anni, in esecuzione dell'ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, dovendo espiare 8 mesi di reclusione per danneggiamento aggravato. Episodio contestato risalente al 4 dicembre del 2010 a San Cataldo. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove sconterà l'intera pena. Funghi e otiti, rischi in piscina che emergono da uno studio. Il nuoto è lo sport più consigliato dai medici, ma quando si frequentano le piscine bisogna fare molta attenzione all'igiene. Funghi e infezioni infatti sono sempre in agguato, a mettere in guardia sono gli esperti. Dobbiamo distinguere da quelle trasmesse attraverso l'immersione in acqua a quelle trasmesse attraverso le superfici. Attenzione dunque a bordo vasca, scalette, piatto doccia, panche degli spogliatoi. Si tratta di superfici che possono essere veicoli di trasmissione di malattia o infezione tra i bagnanti. Da non sottovalutare poi anche lo scambio di indumenti come ciabatte e asciugamani. Scambio che sarebbe assolutamente da evitare. Tra le infezioni più diffuse ci sono quelle all'orecchio, soprattutto tra i bambini, causate da microorganismi che si possono trovare nell'acqua della piscina. Vi lascio alla rubrica Salute e benessere. Il tema russare complica la vita. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. Attivo anche il canale 647 di TCS più uno con la programmazione indifferita di un'ora. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.